Allora sul viaggio la coppia che secondo me in questa stagione ci ha sorpreso tantissimo per la scelta dei programmi veramente azzeccati quest'anno la coppia di Maya Scibutani e Alex Scibutani hanno scelto due programmi molto diversi l'uno dall'altro adesso li andremo a vedere in coppeglia in questa splendida bambola che lei sa interpretare perfettamente e poi la musica dei cosplay invece per quanto riguarda il libero ma è molto cresciuta la connection la relazione tra di loro sul viaggio grazie a tutti 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 proprio per il ruolo che interpreta, che si presta di più a essere interpretato proprio. Guarda che continua a fare la bambolina. Quindi molto 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 bene dal punto di vista dell'interpretazione e dei components. Un po' meno bene è andata dal punto di vista tecnico per quanto riguarda le due sequenze di Ravensburger perché prendono solamente livello 3 tutte e due le sequenze. In compenso ha preso 4 la partial e questa è la prima che si prende 4 nella partial. Perché le altre due avevano preso tutte e due livello 3, erano andate meglio nel Ravensburger, ma peggio nella partial. Invece questa partial che quest'anno ha così tanto valore, oltretutto loro hanno preso livello 4 e l'hanno anche eseguita molto bene perché hanno un 2,20 di grado di esecuzione che va a maggiorare. E la stanno riguardando. E la stanno riguardando ed è stata riscesa a 3. Avevamo un 4 fino a poco fa. E qui è un attimo perché basta che un becco non venga considerato pulito e si va a rivedere in slow motion e il pannello tecnico decide a quel punto che no. Allora non merita la perfezione del livello 4 ma scende anche questa a livello 3. E quindi avevamo un bel 10 punti che sono diventati 9,30 punti. Però vediamo, vediamo un po' perché comunque tutti i gradi di esecuzione, l'esecuzione è stata ottima, anche dei twizzle veramente bellissima, velocissimi insieme, vicinissimi, molto piaciuto. Tra l'altro guarda, stiamo guardando perché il greco di esecuzione del Ravensburg era preso un livello 3 ma con un greco di esecuzione molto alto e riescono quasi a bilanciare rispetto alla coppia precedente. Quindi continuiamo a dire, sarà una finale veramente sul filo. Sul filo, sul filo. Allora aspettiamo il punteggio per Maya Cibutani e Alex Cibutani per la terza finale, per loro mai sul podio. Arrivano qui dopo il secondo posto a State Canada, la vittoria all'NHK Trophy a Nagano. 69-11 e i loro season best hanno un punteggio di 33,92 per il tecnico element. vedete, il tecnico più alto perché hanno avuto dei giurie davvero ottimi e poi 35-19 anche dal punto di vista dei components sono stati assolutamente apprezzati con dei punteggi come